Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo rosa, che invita a riflettere sulla fragilità dei legami e sull'importanza di non perdersi per compiacere gli altri. Con uno stile avvincente e momenti toccanti, è un viaggio nel processo di guarigione emotiva e di crescita personale, condito da momenti di umorismo e ironia. È una lettura che parla a chiunque abbia mai provato a tenere insieme qualcosa che sembrava perfetto, ma che forse, con il tempo, ha bisogno di evolvere per permettere alle persone coinvolte di trovare il proprio vero sé. La trama del libro Happy Plus. Una vacanza particolare della scrittrice Emily Henry, pubblicato dalla casa editrice HarperCollins Italia, è la seguente. Due ex. Un patto. Questa vacanza potrebbe cambiare tutto? Da quando si conosciuti, al college, Ariette e W-Y-N sono sempre stati la coppia perfetta. Stavano bene insieme come il sale e il pepe, il tè e il miele, il pane e il salame. Poi, chissà perché, le cose sono cambiate. Eppure, nonostante siano passati già cinque mesi dalla rottura, ancora non l'hanno detto ai loro migliori amici. Ed è così che si ritrovano a condividere la stessa stanza, e lo stesso letto. In un cottage nel Maine in cui ogni anno da tempo immemorabile il loro gruppo di amici trascorre una meravigliosa settimana di vacanza per disintossicarsi dal mondo. Solo che quest'anno Ariette e W-Y-N mentono spudoratamente a se stessi perché cercano con tutte le proprie forze di negare l'evidenza. E cioè quanto ancora si desiderano null'altro. Agli altri perché non sopportano di spezzare il cuore dei loro amici. Quindi reciteranno la loro parte, Ariette sarà la specializzanda in chirurgia che non litiga mai, e W-Y-N sarà il ragazzo affascinante che non si lascia scalfire da nulla. È un piano impeccabile, sono stati innamorati per tanti anni, quanto può essere difficile fingere per una settimana davanti a chi ti conosce meglio? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.